buongiorno ragazzuoli siamo in diretta si siamo in diretta adesso aspetto che vi colleghiate sono consapevole del fatto che sia un po prestino e me ne rendo conto ma in questi giorni mi sto svegliando abbastanza presto anche perché qua ciao ghost girl anche perché qua stanno facendo i lavori delle delle facciate perciò più o meno verso le 8 iniziano a fare ciao fede bacioni perché quindi più o meno verso le 8 iniziano a fare casino e siccome dormo con la finestra aperta perché fa un caldo porco ragazzi mi sveglio dunque perciò sono sveglio abbastanza presto allora questa questa diretta l'ho fatta per due motivi il primo motivo è che volevo recensirvi l'ultimo libro letto che l'enigma della camera 622 che ragazzi sono andata veramente a rilento sapete cosa vuol dire a rilento nel senso che per leggerlo ci ho messo un mese e mezzo nei prossimi giorni non vi preoccupate che avrete la la foto del prossimo libro però vi devo prima di iniziare la recensione vi volevo dire giusto due cosette allora in questo periodo dovete perdonarmi sono un po diciamo assente mettiamola così perché sono in fase creativa e soprattutto sono in fase di stesura perciò quando io sono in fase di stesura logicamente sono meno presente con tutte le varie attività alle varie cose dunque io spero che questa fase di stesura duri fino all'ultima pagina insomma perché sennò è problematico e perciò mi vedrete sempre con le recensioni sempre quelle cose ma magari un pochettino di meno non lo so al momento devo vedere un po come come procede appunto la fase creativa ci sono varie cose lo sapete ve l'ho già accennato ci sono varie cose che usciranno fuori dal cappello dopo l'estate io sono molto molto felice intanto di tutte di tutte queste cose spero che raggiungano l'obiettivo che spero ovviamente e la motivazione arrivi al cuore di tutti nella maniera giusta perché sapete che io se non c'è uno scopo diciamo di utilità sociale in tutte le cose che faccio per me non hanno senso è un po così anche per i romanzi e che dire perciò spero che possiate capirmi e se non se non mi vedete se vedete solamente qualche foto qualche qualche frase così spero che immaginate che sto appunto scrivendo qui ragazzi fa un caldo micidiale ma lo sapete se se molti di voi sono siete a milano come me immagino molti perciò lo sapete mi auguro che andrete in vacanza in agosto io sono già andata giugno perciò ormai fino a ottobre forse sempre che poi non chiudano causa causa covid io spero di no tocco ferro sono seduta sulla ferraglia perciò tocco ferro spero di no speriamo di poter andare via e come dicevo per quanto riguarda il libro che adesso vi recensisco non so per quale strana ragione sono andata molto a rilento questa volta io credo che sia tutto legato appunto alla questione della fase creativa dunque ho lo scritto in testa dunque non riesco a concentrarmi come dovrei sulla lettura comunque è un libro scritto molto bene io onestamente è il primo libro di questo autore colletto ve l'avevo forse anche detto e è ambientato a ginevra tra si a ginevra tra diciamo in un albergo ecco non mi veniva in un albergo molto di giusto in svizzera e diciamo posso dirvi che in questo romanzo l'autore calcolate che è quello che ha scritto il caso di eric berg del quale vi avevo detto ho visto la serie su su netflix mi era piaciuto veramente un casino è scritto molto bene dicevo e calcolate che niente è come sembra cioè è proprio un thriller mi verrebbe da dire alla simile allo stile del grande maestro che assolutamente imparagonabile donato carrisi anzi ci tengo in questo diretto salutarlo ciao maestro se sei in vacanza buone vacanze un bacio però mi ricorda appunto un buon soltile perché niente come sembra ed è pieno di colpi di scena allora parte tutto da un omicidio avvenuto in appunto in questo albergo che si chiama il palastro verbiere e appunto nella camera 622 parte tutto da lì per poi creare un intreccio di eventi tra passato e presente che muove tutta la vicenda e quello che posso dirmi perché non in realtà posso svelarmi poco della trama perché essendo un thriller se vi svelo troppo la trama rischio poi di svelare anche dei retroscena diciamo che principalmente si 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 basa cioè è un thriller anche finanziario se vogliamo perché all'interno della trama ci sono uomini potenti che lavorano all'interno di questa banca potentissima per cui ci sono sempre giri di soldi e giri di passatemi il termine inculamento delle varie poltrone dei vari ruoli più o meno di prestigio durante tutta la storia mi è piaciuto molto perché è molto movimentato insomma e poi ripeto mi è piaciuto molto perché niente è come sembra cioè noi leggiamo questo libro e pensiamo magari come è capitato a me arrivata poco dopo la metà o poco prima insomma ognuno poi è soggettivo di dire ah ok allora quel personaggio lì ha fatto quella cosa lì e invece poi vai avanti ancora magari di 50 100 pagine dici no cazzo non era lui era un altro dunque fino all'ultima pagina si mantiene si mantiene la sua spazio insomma e niente se in qualche modo mi ho incuriosito andate a cercarlo io ripeto mi chiedo ancora nuovamente vi faccio ancora nuovamente le mie scuse perché anch'io devo ammettere mi sono un po passatemi il termine scoglionato della lentezza con il con la quale l'ho portato a termine e ma ragazzi non dovrei dirlo ma tra un mese del mio compleanno perché purtroppo e per fortuna invecchio pure io quest'anno sarò sincera non mi sembra vero di di essere arrivata la cifra tonda come vi ho già detto sappiate che questo sarà l'ultimo anno dove vedere dove vedrete foto di me con la torta con le candeline perché dall'anno prossimo con i numeri intendo è perché dall'anno prossimo ci saranno le candeline senza numero e se vorrete sapere quanti anni ho vito però contarle tutte ah 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 e perciò niente che dire mi sono resa conto che volato un altro anno ma d'altronde la vita è così sono molto felice inoltre perché sto diciamo ho ritrovato una una persona qui su instagram che per varie vicissitudini avevo avevo perso parecchi anni fa alla quale onestamente ero molto molto legato da ragazza e perciò ci rivedremo molto presto dunque la settimana prossima vedrete me che vado un po in vita e magari ci faremo una foto insieme così ci vedrete tutte e due sono veramente felice perché quando è proprio vero che quando non ti aspetti di poter ritrovare determinate persone a volte può capitare per le ritrovi come ho ritrovato una vecchia compagna di di scuola che ho scoperto che frequentava la mia migliore amica e ho ritrovato anche lei quindi insomma sono felice perché sto ritrovando un po di gente insomma è bello delle volte anche ritrovare persone passatemi il termine persone vecchie oltre che persone nuove e io spero inoltre in questa diretta ci tengo a dirvelo spero inoltre che abbiate e stiate tuttora festeggiando fino alla fine del mese il disability pride perché veramente ragazzi non dimenticate che il nostro mese e non dimenticate che noi dobbiamo lottare tutti insieme uniti per abbattere i pregiudizi abbattere le barriere e abbattere le discriminazioni non solo per la comunità ma sapete che io ci tengo a condurre questo genere di battaglie per il mondo per ciò in generale dunque non dimenticatelo fate sentire orgogliosamente e fatevi vedere la vostra voce perché ripeto questo è il nostro mese non so quando onestamente adesso al momento non ve lo so ancora dire quando potremmo rivederci in diretta adesso come ho detto all'inizio non dipende più da me ma a questo punto dipende dalla mia fase creativa comunque non mi assenterò del tutto perciò non vi preoccupate minimamente e passate una buona giornata oggi pomeriggio per la mia bella calabrizella a sminchiarmi perché sapete che una volta a settimana faccio la fisioterapia perché sto aspettando un nuovo ciclo e niente ragazzi ho finito buona giornata e come sapete ci riaggiorniamo senza dubbio molto presto intanto vi mando un bacio e grazie a tutti voi che avete partecipato stamattina così presto mattinieri come me a questo diretto ciao